Quinta e ultima tappa del mio giro presepi qui in Friuli Venezia Giulia per quest'anno perché se vi piace fatemelo sapere con un commento che per il prossimo anno mi organizzo decisamente meglio oggi siamo a Polcenigo che è stato protagonista di alcuni miei video uno il primo in ordine di tempo è stato molto tempo fa per quanto riguarda una giornata del Fai in cui appunto ho potuto vedere anche gli angoli molto nascosti del borgo mentre il secondo è di quest'estate ed ero in località a Palù di Rivenza per appunto un'escursione una bella passeggiatina in un sito naturalistico archeologico decisamente interessante e da vedere assolutamente per quanto mi riguarda oggi ci troviamo appunto a Polcenigo per quella che è la rassegna dei presepi sinceramente non ce n'è tantissimi però vi consiglio comunque di passare perché il borgo è magnifico siete appunto ci sono una serie di presepi in giro per il borgo che vi permettono di scoprire angoli nascosti eccetera e quindi di visitare il borgo appunto andando a caccia di presepi non dimenticate di entrare all'interno delle chiese perché ce n'è parecchi anche dall'interno delle chiese e se volete vederne uno molto particolare vi consiglio di andare al Gorgazzo dove c'è appunto la sorgente con il suo presepe galleggiante qui vedete fumo che esce dalla mia bocca la condensa perché appunto fa per piuttosto freschetto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti